Sì, le elezioni ci hanno dato un risultato positivo. Adesso siamo impegnati a cercare di mantenere le promesse che abbiamo fatto, cioè di creare una discontinuità, di ridare credibilità alla politica come strumento per cambiare le cose negli interessi dei cittadini in questa terra. Non è semplice, ci stiamo misurando con retaggi del passato, però io penso che ci sia la volontà. Vedo che c'è un grande attivismo, passione politica, sui referendum si stanno facendo molte iniziative, stanno andando bene, c'è una bella partecipazione. Io sono ottimista. Grazie.